Come ha avuto il gol? E quindi un po' di problemi l'avevamo, nonostante questo credo che se avessimo giocato nelle due gare in 11 sarebbe stato un ottavo diverso. Avresti preferito incontrare Liverpool più avanti? Magari sarebbe cambiato qualcosa? No, i turni che sono capiti tra gli italiani erano tutti e tre difficili. Liverpool è arrivato alla fine di febbraio e all'inizio della Champions di nuovo in ottima condizione con tutti i giocatori recuperati, cosa che non era due mesi fa. Purtroppo noi no, ma nonostante questo credo che tutti quanti abbiano lottato dal primo al novantesimo a Liverpool e oggi. Perché a Liverpool comunque in 10 per 65 minuti abbiamo subito due gol negli ultimi cinque minuti, quando poi è uscito Cordoba, quando ha avuto altri problemi. Quindi è stato un po' questo e questo è un po' il dispiacere. Quando uno perde è chiaro che magari pensa che potrà fare qualcosa di diverso o tutto, ma è difficile dire quando poi dopo si giochi in 10 cosa si può fare. Perché poi quando sei così non è così semplice cambiare, stravolgere tutto.